Musica Continua a far discutere l'ordinanza comunale che vieta di sedersi sulle scalinate del centro storico per evitare assembramenti. Protestano i genitori di alcuni ragazzini multati per 400 euro. Non ci sono cartelli, dicono. A presidiare i gradini arrivano i volontari Hauser. Un ottavo carabiniere in servizio alla Levante è stato indagato nell'ambito dell'inchiesta Odisseus. La caserma di via Caccialupo è chiusa da tre settimane. A Gossolengo il comune ha pubblicato due bandi per sostenere il commercio locale dopo l'emergenza Covid. Se n'è andato Carlo Fortunati, aveva 75 anni e è stato presidente del Collegio dei Geometri, consigliere comunale a Piacenza e presidente di Federbocce. Piacenza Calcio, parla il direttore generale Channot. Si è aperto un nuovo ciclo. Puntiamo in alto, ma serve pazienza. Piacenza Calcio, parla il direttore generale Channot.